Quindi oggi è un giorno di festa, non preoccupatevi più, noi assieme a loro combatteremo perché questa vicenda finisca il più presto possibile. L'hanno chiamata la festa di inizio risparmio. Dopo 5 anni i risparmiatori truffati dalle banche popolari venete iniziano a toccare con mano il risultato di anni e anni di battaglie. Sono in arrivo i bonifici con la prima tranche dei rimborsi stabiliti dal FIR. La prima a ricevere l'acconto è stata la signora Mirka Cecchin di Galliera Veneta ma sono già stati autorizzati altri ristori per i consumatori che in questi anni sono stati seguiti dall'associazione Zelino Daonara. Sappiamo che per circa una decina di persone il bonifico è già stato predisposto e spedito, siamo in attesa che la banca lo accrediti. Si tratta del 40% e del 30% autorizzato della Commissione Tecnica del Ministero dell'Economia che ha reperito i fondi evitando di toccare le tasche dei contribuenti. Oltre ad aver fatto la cosa più giusta, cioè risarcire queste persone che avevano avuto dei comportamenti non corretti da parte delle banche che avevano subito, non abbiamo usato i soldi dei contribuenti, cioè i soldi che si pagano con le tasse, che i cittadini pagano con le tasse, ma bensì abbiamo utilizzato i conti dormienti, i fondi dormienti, che sono dei fondi che rimangono fermi nelle banche, nel sistema bancario e nel sistema assicurativo. Alla festa organizzata a Curtarolo nel Padovano hanno partecipato gli esponenti 5 Stelle del Governo che in questi anni hanno lavorato per ottenere i rimborsi. Soddisfatto il Ministro Federico Dincà che ha promesso che tutti i risparmiatori otterranno i ritarcimenti. È una giornata bellissima questa, è anche molto emozionante perché abbiamo visto anche i primi bonifici arrivare, la signora Cecchina ad esempio che ha ricevuto il primo bonifico da parte della Consa vuol dire che in questo momento inizia il percorso, per cui arriva prima l'acconto e poi arriveranno il 30% fino a 100.000 euro come abbiamo promesso in legge di bilancio da parte del Movimento 5 Stelle. Abbiamo 1 miliardo e 575 milioni di euro come copertura.